Avete sentito questo suono? È il suono dello Jovel. La parola Jovel è legata alla parola Giubileo, è l'origine della parola Giubileo. Roma si sta preparando a questo grande evento con tantissimi pellegrini, ma l'origine di questa parola sta in un corno di montone, che secondo la tradizione ebraica veniva usato per annunciare il grande Giubileo. Ogni 49 anni, il cinquantesimo anno, era il Giubileo. Durante quest'anno accadevano delle cose incredibili, venivano condonati i debiti, chi aveva delle proprietà che aveva perso gli venivano restituite e c'era un grande perdono generale con la liberazione degli schiavi. Conseguenze sociali di grande attualità, oggi diremo utopiche, però molto interessanti per capire quello che sta per accadere a Roma.